E' terminato il campionato di promozione, l'unico verdetto che riguarda l'Alpine è il play-out che si giocherà tra Gesualdo e Bisaccese. Se i ragazzi di Mistral Lattarulo erano già certi di giocarlo e non aspettavano di affrontare la Savignanese, si sono ritrovati invece a giocare il derby al Pugliese contro i Granata di Mistral Napolitano, che hanno perso in casa dell'Abilinum di Marcello De Stefano 2-1, contro i Tricualdesi che avevano resimolato fino all'ultima giornata soltanto 5 punti classifica. Questo è il bello del calcio. I Sabatini hanno onorato al meglio la stagione, ma condannati i cugini all'amaro epilogo. Amaro perché la Savignanese all'allegretto fa l'impresa sotto le due reti, i ragazzi di Mister Della Marra trovano con la doppietta di Marino il punto salvezza. Al primo anno in promozione, missione compiuta per i Biancazzurri. Il Bellizzi si congeda dal torneo con la sconfitta in casa della Forza e Coraggio 3-2, doppietta per Spica e 19 reti in campionato per lui. Meglio dello scorso anno, ma gol che sono serviti a poco ai Verde Fucsia ad onor di cronaca. L'apice ha chiuso e imbattuto con la vittoria targata alla Luna il suo campionato con sui cittadini Avellino. In 30 partite, 25 vittorie e 5 pareggi. Complimenti a Patrono Pepe e Mister Facchino. Di Castelpoto vinci in casa del Baiano. Epoteca la terza piazza, Petrone e mattatore di giornata. Anche il mister dello Sporting per il Cina e l'irpino Matteo D'Alessandro strappa il punto salvezza contro l'Ottaviano. A salvare il trainer di Piera De Fusi è D'Andrea che chiude il comando della classifica marcatori con 21 gol. Grazie a tutti.